Ciao e benvenuti in questo video in cui parleremo di come realizzare un grafico in modo semplice e veloce su Excel. Andiamo subito sul nostro foglio di calcolo. Realizzare un grafico è molto semplice. Noi adesso abbiamo già pronto la nostra base dati. In colonna A abbiamo appunto i mesi da rappresentare, quindi immaginiamo dei dati da rappresentare su un arco temporale di un anno su base mensile. In colonna B abbiamo le vendite e in colonna C abbiamo un altro dato, ad esempio gli acquisti. Volendo rappresentare questo dato è molto semplice. Ci basterà cliccare col tasto sinistro nella prima cella della nostra selezione, dei dati che vorremmo rappresentare, scorrere e mano a mano che tutto si evidenzierà di grigio vuol dire che i dati sono selezionati. Una volta quindi selezionati i nostri dati ci sposteremo sul tab inserisci e semplicemente al centro ci sono varie impostazioni dei dati relativi ai grafici. Cambio un attimo la visualizzazione in modo da capire esattamente dove si trova l'impostazione. Adesso zoomiamo nuovamente. Quindi grafici consigliati ci dà la possibilità direttamente Excel di utilizzare dei grafici consigliati da Excel stesso sulla base dei dati che abbiamo noi a disposizione. In questo caso ci propone o dei grafici a linee o dei grafici a barre o dei grafici a dispersione, insomma una serie di grafici che potrebbero essere di nostro interesse. Ma immaginiamo ad esempio di voler inserire dei grafici a barre affiancati in modo molto semplice. Quindi ci riecheremo semplicemente sull'icona dell'istogramma. Una volta sull'icona dell'istogramma ci basterà fare clic sinistro e si aprirà un menu di selezione dei nostri dati. Qui semplicemente con la freccia del mouse senza cliccare nulla avremo già un'anteprima del grafico potenziale che otterremo grazie alla nostra elaborazione. Immaginiamo quindi inserire questo grafico a colonne raggruppate. Quindi un istogramma molto classico. Possiamo fare diverse azioni su questo grafico. In primo luogo cliccando, quindi semplicemente cliccando col tasto sinistro sul mouse si aprirà un menu a tendina sulla destra con gli elementi del grafico, gli stili grafici o il filtro del grafico. Vediamo gli elementi del grafico. Qui possiamo andare a modificare ad esempio la presenza degli assi o ottenere semplicemente i nostri dati, il titolo degli assi. Nel nostro caso sarebbero mesi e vendite più acquisti. Qui abbiamo ad esempio il titolo asse che possiamo andare a modificare inserendo noi la nostra descrizione. Mesi e vendite e acquisti. Risulta però superfluo perché abbiamo già l'indicazione dei mesi sull'asse delle X e nella leggenda sappiamo già che la colonna arancione si riferisce agli acquisti mentre quella blu è le vendite. Quindi possiamo andare a rimuovere il titolo degli assi. Possiamo andare a rimuovere anche il titolo del grafico. Farlo vedere o non farlo vedere. Qui si aprirà una friccetta e possiamo decidere se vederlo sopra il grafico, sovrapposto al grafico oppure andare a definire delle altre opzioni. Molto utile a volte nelle rappresentazioni è l'etichetta dati. Su grandi moli di dati, su dati molto vicini tra di loro per cui è necessario magari andare ad avere una lettura più semplificata, dare una lettura più semplificata, possiamo andare a aggiungere, a spuntare l'etichetta dati in modo appunto che i dati appariranno sopra ogni barra. Abbiamo una tabella dati che aggiunge una tabella di dati sotto il nostro grafico, le barre di errore che indicano la distanza che c'è tra il valore di vendita e il valore di acquisto. Possiamo andare ad accendere o spegnere le linee della griglia in modo che il grafico si uniformi allo sfondo. Possiamo andare ad accendere o spegnere la leggenda, quindi come in questo caso, vedere o meno vendite e acquisti. Anche qui abbiamo le opzioni di posizionamento della leggenda rispetto alle barre. Può essere in alto, può essere a sinistra e in basso. Noi teniamola ad esempio in alto e delle linee di tendenza, ovvero di come l'evoluzione, ad esempio nel nostro caso delle vendite e degli acquisti, si relazionano al passare del tempo, quindi da gennaio a dicembre, come le vendite sono incrementate o diminuite. Proviamo ad avere questa linea, in questo caso la linea di tendenza è una linea leggermente in salita, i dati sono appunto inventati, per cui non ci aspettavamo una tendenza chiara. Questo è tutto per quanto riguarda i grafici e come realizzare un grafico in Excel. Per altri approfondimenti su Excel, continua a seguirmi, metti un like a questo video e iscriviti al canale. Grazie, ciao!